Ah, ci picchia! Che bel banchetto! Allora, oggi è lunedì, poi domani è martedì, seguito da mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ehi, grande cavalluccio marino! Si sposti, per favore! Perché questo cavalluccio marino non ci lascia passare? Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Come facciamo ad arrivare alla porta?